Ciao ragazzi, oggi sono qui per raccontarvi una mia esperienza che ho avuto nelle ultime due settimane infatti per le ore di alternanza sulla lavoro ho avuto l'occasione di andare al correre di Novara e di vedere per la prima volta un po' quello di cui si occupa un giornalista, in particolare un giornalista sportivo quindi sono qui oggi per raccontare la mia esperienza, spero che a molti possa interessare io su questo canale cerco sempre di parlare nella maniera più competente del Novara nella maniera più seria possibile anche perché il lavoro di giornalista è un lavoro che mi piacerebbe anche fare in futuro è stata quindi la mia prima esperienza al correre di Novara con Paolo De Luca e ho scritto vari articoli, ho partecipato anche ad una conferenza di cui vi racconterò oggi e ho visto anche un po' la parte più tecnica, più nascosta del lavoro del giornalista quella di creare poi le pagine del giornale attraverso un programma sul computer che era sicuramente una novità assoluta per me inizierei innanzitutto a parlarvi un po' degli articoli perché ho avuto l'occasione, ho avuto il piacere anche di scrivere dei piccoli articoli per la stazione sport il Corriere di Novara esce il lunedì e il giovedì in particolare il lunedì, poiché parla del weekend e dei risultati sportivi del weekend dedica 15 pagine allo sport novarese della provincia di Novara fino a Verbania e quindi si parla oltre del Novara, oltre della Igor, oltre del basket, dell'occhio e rotelle anche di tanti altri sport secondari che hanno la loro piccola parte nelle pagine che però è comunque già una cosa importante nell'edizione del giovedì lo sport ha meno pagine anche perché salvo turni infrasettimanali non ci sono tanti eventi sportivi che cadono durante la settimana da essere poi raccontati ed iscritti nel giornale quindi ha meno pagine, quindi grande spazio lo prende sempre il Novara, la Igor con le anticipazioni delle partite che ci saranno nel weekend oppure parlando anche dei turni infrasettimanali e gli sport minori nel giovedì magari trovano meno spazio io mi sono occupato in queste due settimane del tennis tavolo e del futsal e ho scritto due o tre articoli in queste due settimane anche perché del calcio si occupava Paolo De Luca e anche Massimo Barbero, credo che molti di voi lo conosceranno uno dei massimi esperti del Novara Calcio e comunque anche per le partite perché poi oltre al Novara il Corriere parla anche di tutte le partite serie D eccellenza e promozione fino alla terza categoria ci sono anche dei piccoli articoletti di ciascuna partita più o meno in particolare di serie D, eccellenza e promozione ecco Paolo aveva una serie di inviati che andavano a vedere le partite e che o facevano loro un piccolo articolo che poi Paolo metteva a posto oppure c'era una telefonata, una chiamata in cui raccontavano a Paolo la partita quindi non ho avuto l'occasione di andare a seguire qualche partita di eccellenza e promozione magari nelle prossime settimane potrei avere questa occasione sicuramente vi porterò un video a riguardo di questo quindi mi sono occupato un po' degli sport secondari è giusto, è anche giusto così, chi sono io per andare a fare sport più importanti come pallavolo e calcio c'è gente che fa questo lavoro da tantissimi anni ed è sicuramente molto più competente di me e mi sono occupato degli sport secondari anche perché società come la Regaldi, Tennis Tavolo o come anche il Futsal mandavano un po' il resoconto dei risultati di The Weekend e il giornalista ha il compito di trasformare questi risultati in un articolo completo e quindi la comunicazione della società viene poi trasformata in un vero e proprio articolo come ho fatto per il Tennis Tavolo e per il Futsal per il Futsal ho avuto anche l'occasione di andare nella sala del Consiglio Comunale in centro Novara a seguire una conferenza del Futsal perché molto probabilmente la Super Lega di Futsal e molto probabilmente le fasi finali della Champions League di Futsal si disputeranno a Novara nei primi di giugno quindi c'era un po' questa conferenza per dare inizio alla competizione della Super Lega che poi decreterà una squadra italiana che avrà la fortuna di partecipare alla Champions League di Futsal che salvo imprevisti tra il primo e 4 giugno si disputerà a Novara c'era anche l'assessore dello sport Ivan De Grandis è stata anche questa una vera e propria novità per me partecipare ad una conferenza non mi era mai successa forse l'unica conferenza a cui ero riuscito a partecipare è stata quella di presentazione del nuovo Novara vi ricordate c'è il video anche su YouTube le prime parole del Presidente Ferrante da Presidente del Novara presso il Castello i primi di settembre del 2021 quella è stata l'altra conferenza questa conferenza di un altro sport è stata comunque una novità e poi ho avuto il compito di scrivere l'articolo di questa conferenza quindi sono andato alla conferenza ho preso i miei appunti e poi una volta ritornato nella sede del Corriere che è in Viale Buonarrotti ho avuto il compito di comporre un articolo riguardante la conferenza quindi riportare due o tre frasi che avevano detto i vari personaggi della conferenza come l'assessore, come gli organizzatori, gli ideatori di questa superlega di Fuzza e poi anche esporre un po' la competizione perché ovviamente è una competizione che molti non conosceranno io stesso non conoscevo quindi sono state un po' due queste le mie esperienze conferenza stampa e articoli nelle prossime settimane potrei anche andare a seguire delle partite a Novara o fuori Novara e sarà sicuramente un'esperienza nuova però è stata veramente una è stata veramente due settimane molto belle in cui ho conosciuto novità ho conosciuto cose nuove in particolare il lavoro del giornalista non è solo scrivere gli articoli ma è anche tanto altro come appunto la parte tecnica che per la prima volta ho conosciuto anche scrivere i tabellini impaginare nella maniera più corretta le pagine perché ovviamente non si mettono gli articoli a caso su una pagina di giornale c'è tutto uno studio dietro anche per cercare di impaginarle nel modo migliore anche visivo sicuramente anche visivo quindi io direi che può finire qui il video vi ho raccontato anche un po' in breve la mia esperienza vedremo cosa farò nelle prossime settimane se ci sarà come ho detto prima occasione di andare a seguire da giornalista delle partite sicuramente vi porterò un video in cui vi racconterò anche questa nuova esperienza perché adesso io spero che questo contenuto possa interessare a molti di voi a me piace parlare di questo piace realizzare un contenuto del genere quindi se piace anche a chi lo vede è una cosa migliore è uno stimolo in più per continuare a portare contenuti del genere io mi invito a lasciare like a iscrivervi al canale se non è ancora fatto vi mando la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video sempre forza a nuovare nel bene e nel male ciao ragazzi ciao